10 prove speciali in programma nell'undicesima edizione del rally di Carbagnola. Vincitore dopo essersi aggiudicato 6 prove speciali e Daniele Griotti su lancia delta HF della Winner Team. La gara si è risolta nella prima tornata di 5 speciali, non riservando particolari colpi di scena in seguito. Ottima la gara del pilota di casa Vedelago che conclude secondo, terzo assoluto il torinese Gianmarco Enrico su Sierra Cosworth impegnato nel campionato Totip e presente al Carbagnola per una serie di test di verifiche sulla propria vettura. Ad avere la meglio tra le vetture di produzione è Müller che se l'è dovuta vedere con degli agguerriti Rosso e Minella. Grazie a tutti.